Il forum in difesa della sanità pubblica e di qualità ha dato mandato ai suoi legali di costituirsi parte civile per il processo relativo al decesso di Michele Cesaride. Continua la mobilitazione dei comitati contro la realizzazione del gasdotto Larino Chieti e del centro di stoccaggio del Sinarca, ma l'iter per i lavori è già avviato. La Corte dei Conti si pronuncia sulla parificazione del rendiconto generale della Regione per l'anno 2017, numerose le segnalazioni e le indicazioni di merito. Il campo basso sprofonda negli abissi della classifica del Girona F di Serie D dopo la sconfitta casalinga con il Giulianova, esce sconfitta anche l'Isernia, pareggia l'Agnonese. Gentili telespettatori, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Il forum in difesa della sanità pubblica e di qualità ha dato mandato ai suoi legali per la Costituzione, in parte civile, nel procedimento penale relativo al decesso avvenuto lo scorso mese di luglio del cittadino di Larino, Michele Cesaride. Vediamo. Le associazioni e i comitati che aderiscono al forum a Morisano per la difesa della sanità pubblica e di qualità hanno conferito il mandato ai propri legali di formalizzare la Costituzione del forum in aderenza con i propri fini contemplati nello statuto nel procedimento penale in corso a Larino in seguito al decesso del 47enne Michele Cesaride. una presa di coscienza in direzione della richiesta di Costituzione di parte civile per una lotta che non trova un solo attimo di sosta, sempre e comunque per le finalità della tutela della salute dei molisani e della regolarità dei pronunciamenti costituzionali che sono di garanzia di tutti i cittadini e non solo di parte di essi. Il forum, inoltre sempre per il tramite dei suoi legali, ha fatto appello cautelare in anzi al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del Tar del Molise che ha rigettato l'istanza cautelare e l'istruttoria nel ricorso RG 140 del 2018 proposto per l'annullamento del decreto del commissario ad acta sulle reti di emergenze e tempo dipendenti. L'appello è stato reso necessario proprio in relazione dei decessi che si sono verificati negli ultimi mesi, tutti riconducibili a pazienti colpiti da patologie tempo dipendenti per i quali non è stato possibile il ricovero presso le strutture regionali. E potrebbero esserci delle novità nella riscossione della tassa automobilistica, meglio conosciuta come Bollo Auto. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa durante un'audizione ha annunciato dei possibili provvedimenti a partire dal 2019 relativi alle modalità di riscossione del bollo auto che potrebbe essere calcolato con modalità differenti rispetto a quanto avviene oggi in quanto ci sarebbe l'ipotesi che un automezzo, un autoveicolo che produce maggiori emissioni di anidride carbonica potrebbe vedersi applicato a un aumento del costo della tassa. E prosegue la protesta dei comitati contro la realizzazione del gasdotto Larino Chieti autorizzato a giugno scorso dal Ministero dello Sviluppo Economico. A Larino si è tenuta un'assemblea informativa per ribadire le ragioni del no all'opera e al centro di stoccaggio del Sinarca. Vediamo. Non è solo la cosiddetta tappa ad allarmare cittadini e comitati che con determinazione si stanno da tempo battendo in Puglia per frenare un'opera destinata ad avere gravi ripercussioni sulla qualità del territorio e sul settore turistico. A preoccupare c'è anche un altro progetto considerato dannoso per le comunità e per il territorio interessato in riferimento in questo caso al versante adriatico di Abruzzo e Molise e il metanodotto Larino Chieti al quale il Ministero dello Sviluppo Economico retto da Luigi Di Maio lo scorso 28 giugno ha dato il definitivo via libera. La protesta partita dal comitato Noab del Gas Abruzzo si è allargata in questi mesi anche ad altre organizzazioni nate dal basso in difesa del paesaggio e dell'ambiente. Tra queste il coordinamento Trivelle Zero Molise è il comitato discoli del Sinarca di Guglionesi. Allo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini sulle ragioni del no all'opera si è tenuta un'assemblea informativa a Larino nel corso della quale è stato anche fatto il punto della situazione sul progetto di costruzione di uno dei quattro centri di estrazione e stoccaggio collegati al gasdotto di cui il più grande dovrebbe sorgere proprio nella zona del Sinarca, nel cuore dell'area interessata dal terremoto di metà agosto scorso, una vera e propria bomba orologeria che i comitati sperano ancora di disinnescare. Nel corso dell'assemblea è intervenuto anche il sindaco di Larino Pino Puchetti che ha ricordato come il progetto del gasdotto che per circa un chilometro interessa il territorio frentano si è aggiunto ormai a un iter avanzato tenuto conto che nei giorni scorsi la società Gasdotti Italia ha comunicato l'avvio dei lavori dopo che la precedente amministrazione guidata da Vincenzo Notarangelo con delibera di consiglio comunale approvata a fine 2017 ha dato parere favorevole all'opera per un ristoro previsto di circa 50.000 euro ma senza che la comunità fosse stata preventivamente informata e coinvolta in tale decisione. L'auspicio dei comitati dopo che il Misi ha dato parere favorevole al progetto è appesa al filo di possibili ricorsi ma soprattutto alla presa di coscienza delle popolazioni contro un governo che avrebbe dovuto battersi per la salvaguardia del territorio e per le fonti di energia rinnovabile in nome di un cambiamento che nei fatti non c'è stato perché si sta comportando effettivamente come quelli che lo hanno preceduto. E ora torniamo per un attimo alla cronaca. Il recluso in una cella del penitenziario di Sernia per scontare la pena a tre anni di reclusione per violenza sessuale. Un uomo originario dell'Alto Molise è stato rintracciato dalle forze dell'ordine ad Agnone e condotto nel carcere di Ponte San Leonardo a Isernia. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Campobasso. E' una cerimonia ufficiale della sezione regionale di controllo per il Molise e della Corte dei Conti per il pronunciamento del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione riguardo all'esercizio finanziario del 2017. Si è tenuta oggi a Campobasso. Vediamo. La Corte dei Conti, attraverso la sezione regionale di controllo per il Molise, si pronuncia sulla parifica del rendiconto della Regione Molise per l'esercizio finanziario relativo al 2017, in una cerimonia ufficiale tenuta nel Salone d'Onore della Prefettura di Campobasso alla presenza degli uomini dell'Aggiunta e del Consiglio regionale e delle più alte cariche istituzionali. A presidere il collegio giudicante è stato chiamato il Presidente della Corte dei Conti il Dottor Angelo Buscema che ha salutato gli ospiti e ha aperto i lavori propriamente tecnici aperti dal Presidente della sezione regionale di controllo il Dottor Mario Nispilandi e completati con la relazione del Consigliere il Dottor Luigi Di Marco che ha riassunto gli esiti delle verifiche condotte appunto sulla gestione 2017 dell'Ente Regione e dell'intero sistema Molise e sul rendiconto approvato dall'Aggiunta regionale. Negli ambiti della requisitoria si sono toccati tutti gli argomenti della gestione finanziaria procedendo alle disamini scaturite dalle linee di controllo che hanno riguardato l'interezza delle spese pubbliche, i risultati della gestione 2017 considerando le partecipazioni societarie della Regione Molise, i controlli interni, il disavanzo sanitario, le spese del personale e quanto altro. Naturalmente il percorso delle analisi di spese dell'intero bilancio è complesso e ben argomentato nel documento contabile e però essendo il tutto da considerare come un bene pubblico ne gestita da parte nostra tutta una serie di posizioni informative che saranno espresse negli specifici servizi televisivi dei prossimi giorni. Oggi ci limitiamo a segnalare la gestione economica al 31 dicembre del 2017 che chiude di fatto con un risultato di esercizio negativo di 87,92 milioni di euro. Numerose sono le segnalazioni della Corte dei Conti, indicazioni che vanno in direzione di percorsi che possono e devono nel tempo annullare ogni criticità attraverso quei miglioramenti che diano la giusta qualità e gli adeguati riscontri alle scritture contabili e alle stesse finalità che si vanno a convertire negli effetti positivi sui territori e sui suoi abitanti. Ci occupiamo ora di scuola, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando del concorso straordinario per la scuola primaria e dell'infanzia. Al bando si potrà aderire solamente attraverso la procedura telematica e il sistema informativo POLIS. La scadenza per presentare la domanda è prevista il 12 dicembre prossimo alle 23 e 59. E nell'ambito del centenario della fine della Grande Guerra, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha organizzato a Larino una manifestazione che ha visto la partecipazione di associazioni e scuole la consegna della Costituzione agli studenti. Vediamo. Nell'ambito della ricorrenza per il centenario dalla fine della Grande Guerra, la sezione di Larino dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, presieduta da Giuseppe Silvano, ha organizzato una giornata dedicata all'impegno per la memoria dei caduti del primo conflitto mondiale di tutte le guerre. La manifestazione è partita con il raduno simbolico davanti al monumento dei caduti in piazza Vittorio Emanuele, proseguita con un corteo al quale hanno preso parte associazioni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che si è snodato lungo via a Cluenzio per raggiungere la biblioteca all'aperto, dove i ragazzi hanno letto alcuni degli articoli fondamentali della Costituzione, entrata in vigore 70 anni fa. La celebrazione è proseguita al Palazzo Ducale con una mostra fotografica e di cimeli storici, custoditi dall'Associazione Combattenti Nella Sala Freda si è poi tenuto un convegno ispirato al ruolo delle donne durante la Grande Guerra con la relazione curata dalla docente, giornalista e scrittrice Rita Frattolillo e con la testimonianza in una sorta di linea di continuità tra i drammatici eventi che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento, del Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Michele Montagano, 97 anni, ultimo sopravvissuto dei 44 eroi di Unterlus che resistettero per senso della Patria alle atroci torture e privazioni subite nei campi di sterminio nazisti. Una manifestazione utile a mantenere viva la memoria storica che si è conclusa con la consegna della Costituzione agli studenti e con la deposizione di una corona da loro sulla tomba del Milite Gnoto situata all'interno del cimitero comunale. Appunto un aspetto poco considerato dalla storiografia contemporanea riguarda il ruolo delle donne durante il primo conflitto mondiale. Ai nostri microfoni sentiamo in proposito il parere della intellettuale scrittrice Rita Frattolillo. Rita Frattolillo un aspetto poco considerato dalla storiografia, soprattutto dalla storiografia legata agli eventi bellici che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento è data appunto dal ruolo delle donne, in particolare in questo caso dal ruolo delle donne durante la prima guerra mondiale di cui si celebra il centenario. Perché in effetti a differenza di quello che è successo in Europa, in cui gli studi sulla partecipazione femminile agli eventi bellici sono cominciati piuttosto per tempo, in Italia si è addirittura aspettato fino agli anni 90 del secolo scorso, quando una nuova generazione di ricercatori, di studiosi, senza i paraocchi e senza i pregiudizi che avevano avuto gli studiosi precedenti, hanno cominciato appunto a fare delle ricerche per capire qual era stato il contributo delle donne e sono venuti fuori tanti tanti documenti, anche degli epistolari, delle memorie private, per cui hanno potuto ricostruire la mobilitazione massiccia che c'era stata in quel periodo e quindi anche le doti di coraggio che le donne hanno dimostrato, perché sono state molto indrepide, temerarie, coraggiose e piene di spirito di iniziativa, al punto che questa loro azione ha consentito il loro ingresso nella storia con la S maiuscola per la prima volta. Restiamo sugli appuntamenti, dopo 43 edizioni consecutive si pongono finalmente le basi per un rilancio del Carnevale Larinese, una delle manifestazioni più attese in Molise. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che disciplina l'organizzazione della Kermess con diverse novità, tra cui la doppia sfilata in due weekend consecutivi. Le date annunciate sono il 2 e 3 marzo e il 9 e 10 marzo del 2019. L'ente di Palazzo Ducale ha inoltre partecipato al Bando Nazionale per far rientrare la manifestazione all'interno dei Carnevali Storici d'Italia e per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, porte aperte per aspiranti volontari al Comitato Provinciale Unicef di Campobasso. Accesso libero dalle ore 16 di domani. È ora il momento di vedere insieme le previsioni del tempo. Cielo coperto e piogge sparsa oggi su gran parte del Molise. Le temperature odierne sono comprese tra i 6 gradi di Campobasso e la massima di 11 a Termoli. Ventilazione meridionale, quasi calmo il medio adriatico. Miglioramenti climatici sono attesi domattina sulla regione. Valori atmosferici in netto rialzo. Venti da sud ovest. Passiamo ora alla pagina sportiva e come ogni lunedì iniziamo dal calcio e dai risultati del turno di Serie D. Vediamo. Sant'Arcangelo, Matelica 0 a 2. Savignanese, Olimpia Agnonese 1 a 1. Vastese, Montegiorgio 1 a 0. In classifica Matelica sempre in testa, 33 punti. Cesena 28. San Nicolò Notaresco 26. San Giustese 24. Re Canatese 21 punti. Francavilla 20. Savignanese, Pineto 19. San Maurese 18. Sant'Arcangelo e Real Giulianova a 17 punti. Vastese 14. Montegiorgio 13. Isernia, Jesina, Forlì, Castelfidardo e Avezzano ad 11. Chiudono Campobasso e Limpia Agnonese a 9 punti. Domenica amara per le tre squadre molisane impegnate in Serie D. Ancora una sconfitta casalinga per il Campobasso. Il Giulianova affonda i rosso, blu, giunti ormai in ultima posizione. Vediamo. Il Campobasso sprofonda in classifica. Passare al Selvapiano il Giulianova dinanzi a pochi intimi in un pomeriggio di fine autunno. Padroni di casa in completo bianco, abruzzesi in rosso. I molisani hanno un discreto avvio tra i più intraprendenti. C'è lo Juniores Francesco Antonelli, che impegna seriamente il portiere ospite Q. Trupi. La difesa degli Adriatici si salva. La risposta dei Giuliesi è in una punizione calciata da ottima posizione da Marco Antonelli. La sfera carezza in legno. È la prova generale del vantaggio della formazione viaggiante a metà del primo tempo. Di Paolo controlla la palla, entra in area, non trova ostacoli sulla corsia a destra dei lupi e inganna Sposito sul suo palo con un radente chirurgico. Real Giulianova 1, Campobasso 0. I molisani sono sturditi e prestano il fianco alle incursioni sugli esterni. Da una di queste al difensore del grosso, Pennella, per la testa del centroavanti. Tozzi Borsoi, palla a fil di palo. I padroni di casa non sono neanche fortunati. Minuto 34. L'arcobaleno da fermo dell'attaccante Giacobbe supera Cutrupi, ma si stampa sui due legni. Ferrante disinnesca in angolo la sfera di ritorno. Prima del te caldo da altro calcio piazzato in favore dei locali. Il pallone termina distante dal legno coperto da Cutrupi. Il Real Giulianova si fa notare ad inizio ripresa con Mangiacasale lanciato sul filo del fuorigioco. Destro poderoso scagliato appena dentro l'area sul quale risponde presente Sposito. Danucci suona la carica per i lupi, ma il colpo di testa di Giacobbe al trentunesimo è fiacco e centrale e finisce comodo tra le braccia di Cutrupi. Il campo basso a Naspa e con il passare dei minuti perde consistenza e intensità di gioco. Al triplice fischio dell'arbitro Baronti della sezione di Pistoia cala il gelo sul catino del Selvapiana. Neanche l'arrivo del tecnico modenese Bagatti e del 28enne difensore Marchetti sono serviti per dare un taglio al passato. A festeggiare solo i giocatori di Mister Stallone sotto l'espicchio di curva riservato alla tifoseria Teramana. E a Savignano sul Rubicone l'Agnonese raccoglie un punto che però serve poco alla classifica. Nel finale è sorgente a firmare la rete del pari per i Granata. Vediamo. La Savignanese reduce dallo storico derby dell'Orogella Stadium contro il Cesena. L'avversario, l'Olimpia-Agnonese squadra che si giocava uno scontro diretto con pochi timori reverenziali. La prima battuta rete, quella che vediamo effettuata dalla distanza da Giavò. Palla che viene controllata dal portiere Pazzini. Poi dalla parte opposta c'è il colpo di testa di Peluso sotto misura. Pallone che si spegne sul fondo. Andiamo a metti tresimo, ci prova Longobardi. Respinge Kuzmanovic dopo una splendida battuta dalla distanza. Eravamo al ventitresimo, noi ci spostiamo di cinque minuti. C'è ancora in attacco. Un'ottima Savignanese con Peluso fa il vuoto sulla sinistra. Cross per Longobardi. Che cerca di colpire in controtempo il portiere Kuzmanovic. Ma non riesce a dare precisione. Un minuto più tardi c'è l'Olimpia. Agnonese in attacco con il cross dalla destra. Non ha bene qui la Savignanese. E per poco non ne approfitta con questa conclusione De Zai. Alta sulla traversa. Break però della Savignanese. C'è l'intervento del direttore di gara. Il fallo commesso dall'Iterio. Fallo da Tergo. Ammunizione per lui. Ma quelli della Savignanese reclamavano a viva voce il provvedimento disciplinare più severo. Il cartellino rosso che non arriva. Allora siamo nel corso della seconda frazione di gioco. Sempre 0-0 tra Savignanese e Olimpia Agnonese. Qui Longobardi va vicino alla deviazione sottomisura per cercare di sbloccare il pari. Niente da fare. Ma andiamo al 14esimo ancora in attacco la Savignanese con questa possibilità di cross dalla destra. E sottomisura Longobardi ancora una volta a fallire come era accaduto a Cesena. Anche se qui la posizione era totalmente defilata. Ma è una fase favorevole per la Savignanese che sulla sponda di Francesco Manuzzi trova Vandi. All'appuntamento con la gol. Rete dunque per la Savignanese che trova il secondo centro stagionale di Paolo Vandi. 1-0 e Savignanese che forse si chiude un po' troppo successivamente e trova un grande Pazzini. Sulla battuta di Ricciardi. Ennesima prodezza della portiera della Savignanese che salva al trentesimo minuto. Poi assiste al diagonale out da parte di Gentile. Siamo ormai arrivati nel recupero della match. Ultimi assalti per l'Olimpia agnonese che si spinge in attacco con Page. Cross. Questa volta Pazzini non sa se uscire oppure no. Alla fine viene beffato da Sorgente. Il pareggio in extremis dell'Olimpia agnonese contro la Savignanese. E dunque non riesce l'impresa alla squadra di Oscar Farnetti di vincere questo incontro di aggiudicarsi tre punti fondamentali. E così come il campo basso anche l'Isernia allenata da Massimo Silva perde davanti al proprio pubblico. Due espulsioni e un calcio di rigore regalano i tre punti al Castelfidardo contestata la Terna. Arbitrale per le decisioni assunte. Vediamo. Allo stadio L'Ancellotta di Isernia protagonista assoluto della partita è stato il fischietto Tarantino De Vincentis capace poco dopo la mezz'ora di gioco di affossare i bianco celesti padroni di casa con due rossi e il calcio di rigore che Calabrese in due tempi realizzerà per consegnare i tre punti al Castelfidardo. I molisani ridotti in nove daranno più di un filo da torcere alla formazione marchigiana ma Douglas non sarà in grado quantomeno di pareggiare le sorti della gara segnata da discutibili decisioni della Terna arbitrale comprese quelle di allontanare nella ripresa anche il dirigente Isernino Cefalogli e il calciatore De Chiara dalla panchina per proteste. Parte bene l'undici di Massimo Silva. Di Matteo mette alle corde Barbato che sistema in angolo la palla. Di Matteo si rivede pochi minuti dopo sempre dal fianco Mancino. Barbato si ripete nella parata a terra e sfera di nuovo in corner. Primo rosso al difensore di casa Barretta forse per uno sputo ad un giocatore in casacca bianco-verde. Tutto questo poco dopo la mezz'ora di gioco. Passano appena tre giri di lancette e Di Leonardo appoggia le mani sulle spalle di Righi che stramazza a terra. Calcio di rigore assegnato agli ospiti ed espulsione decretata da De Vincentis al giovane difensore Di Leonardo. Tra l'incredulità generale a trasformare la massima punizione al trentaseiesimo ci pensa Calabrese. Landi fa quello che può sulla prima conclusione. Sempre Calabrese nell'unica incursione dei marchigiani nel secondo tempo fallisce la rete dello 0-2 dinanzi all'Andi. Poi solo Isernia fino al termine delle ostilità. Douglas ben appostato al centro dell'area raccoglie la sfera e in torsione colpisce a botta sicura. Il palo evita il pareggio ai locali al minuto numero 20. Ancora il centrocampista di colore, il più pericoloso dei suoi, si inserisce per linee centrali dopo una lunga corsa. Il pallone non è indirizzato all'angolo e Barbato allontana la minaccia con i piedi. E' l'ultimo atto di una partita intensa ma poco fortunata che i pentri avrebbero meritato almeno di non uscire sconfitti. Al Castelfidardo i tre punti e un particolare ringraziamento alla terna arbitrale. E ora passiamo ai campionati di eccellenza e promozione. Andiamo a vedere cosa è successo nell'undicesima giornata d'andata. Undicesima giornata in eccellenza. Sesto Campano Gambatesa 3-1. Boiano Vasto Girardi 0-1. Termoli Roseto 2-1. Frentani Avenafro 0-0. Pietra Montecorvino Matese 2-2. Real Guglionesi Olimpia Riccia 1-0. Rocca Sicura, Acli e Campo di Pietra 2-1. Treppini Matese all'Ife 6-1. Guida il girone il vasto Girardi 31 punti. Venafro 24-2. Boiano 23-2. Rocca Sicura 22-2. Real Guglionesi e Treppini Matese a 21 punti. Roseto 19-2. Termoli 18-2. Sesto Campano 17-2. Frentania 11-2. Acli e Campo di Pietra. Olimpia Riccia 9 punti. Gambatesa e Pietra Monte Corvino ad 8. Matese 7. Chiude ancora a 0 punti. L'Ife. Undicesima giornata in promozione. Aurora Ururi Spinete 1-0. Castel di Sangro Biccari 2-2. Cliternina Donchissagnone 0-3. Comprensorio Vairano Termoli 2016 3-0. Polisportiva Fortore Campobasso 1919 1-1. Chieuti Santeliana 1-2. Ripalimosani Baranello 1-2. Trivento Capriatese 1-3. In testa Comprensorio Vairano 29 punti. Capriatese 24. Biccari 23. Ripalimosani e Baranello a 20 punti. Campobasso 1919 a 17. Castel di Sangro e Donchissagnone a 16 punti. Aurora Ururi 15. Termoli 2016. Trivento a 14. Chieuti 10. Santeliana 8. Spinete 7. Chiudono Cliternina e Polisportiva Fortore a 6 punti. Per il calcio è tutto. Ci spostiamo sul basket con il risultato di 60-37. La Magnolia Campobasso supera in casa il Savona e prosegue il suo cammino in vetta in A2 di palacanestro femminile senza alcun errore. 8 successi in altre tante gare. Migliore realizzatrice l'Areani con 13 punti. Sabato 24 al Palavazzieri. Arriverà il Faenza. Un'ultima notizia relativa invece al kickboxing. Partito per la Slovenia il boianese Mattia Amatuzio, atleta della Nazionale Italiana, per partecipare ai campionati europei di kickboxing. nella categoria senior 69 kg. Il 21enne Matesino nel 2018 si è già aggiudicato il campionato italiano senior. La manifestazione sportiva si concluderà sabato 24. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. io vi ringrazio per essere stati come sempre in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata naturalmente sulla nostra rete. a Grazie a tutti.